ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video non sarà proprio un video di roblox però una sorta di reaction sto video dovevo farlo tanto tempo fa almeno due mesi fa e si state vedendo di chi sto trattando la principessa georgia prima di andare a vedere qualche suo video e qualcuno qua può me dire perché chiaramente ne parlerò poi bene cosa succede come è nata questa cosa della principessa georgia nella festa di accio praticamente mesi fa mister domi mister domi e jack hanno parlato della principessa georgia che praticamente somiglia a quella asiatica quella qualsiasi comunque il giappone è la non mi viene in mente come un nome addirittura alcuni l'hanno parlato alla quindenne dello mondo e cioè che sia una pessima persona che parla male e quant'altro devo dire la mia devo dire la mia allora la principessa georgia non ho niente di negativo da 10 anzi cioè ripeto qualche ho visto dei suoi video ripeto e qui mi attira qualcuno non è male fa video fatti bene ripeto principalmente io quelli che non è che la seguo non la seguo però ripeto mi capitano degli shorts su ogni tanto infatti quello che vedremo sono solamente gli shorts e ripeto sono video copiati cento per cento comunque posso confermare che comunque adesso i video sono cosiddettamente copiati da altri youtuber ma non significa che comunque sono fatti male fa anche bene nonostante siano diciamo un po copiati ripeto è brava non guardo come dicevo non seguo lei non vedo i suoi video normali però ho visti sui shorts e ripeto non è un canale male perché ripeto lei tratta solo di roblox e mettiamo caso un video semplice presento venuta da schifo burger vuoi ordinare quale lavoro io l'ho comprato direttamente questo posto la mamma lo sa che lavori qui lo vuoi uno schifo burger o no per me è gratis no ma è ovvio sorellina ti darò lo schifo burger migliore di tutti nel mentre lasciate mi piace ed iscrivetevi i miei video sono fantastupendi beh è pronto si eccolo qui fresco fresco ok non lo dirà la mamma che lavori qui fantastupendo ma che schifo benvenuta da schifo burger mettiamo magari un altro video ancora vediamo un po' questo giorgia non mi sto sentendo per niente bene ti porto subito dal dottore tua mamma sta davvero molto male dobbiamo fare un'operazione molto complicata e per questo è molto costosa partiamo da 10.000 robux adesso mi manca esattamente la metà ti propongo un gioco tiro una moneta se esce testa i tuoi soldi si raddoppiano in caso contrario li dai a me no grazie non mi fido peggio per te mi sto chiamando il dottore pronto giorgia devi muoverti manca davvero pochissimo tempo non ce la farà ok mi muovo lasciate mi piace per farmi arrivare in tempo nonno mi servono dei robux subito quanti te ne servono tesoro ne hai 5.000 certo tieni tesoro prenditi il gelato eh si nonno grazie dottore ecco mi ho preso tutti i soldi giorgia mi dispiace tantissimo non ce l'ha fatta no vabbè sono una figlia terribile servono 10.000 robux per curare il tuo papà a me ormai non servono più lasciate i miei piaci iscrivetevi se devo dare a lei i miei robux giorgia allora devo dare la mia critica principalmente per i suoi video allora ripeto sono video diciamo un poco stupidi ripeto se dovessi valutare i suoi video eh per una fascia d'età eh sì e no sono video secondo il mio punto di vista adatte più che altro a bambini tra gli 8 e 15 anni ripeto quindi ripeto è un canale principalmente secondo no eh principalmente diciamo dedicato eh principalmente per bambini consigli per lei da migliorare ripeto non è che abbia né il suo canale è strutturato abbastanza bene penso anche con i titoli prima in tempo fa chiaramente nel canale mio portavo pubblicità e quant'altro eh consigli da dargli praticamente eh quello che gli consiglia lei praticamente fatemi pensare allora praticamente la sua voce ora ripeto non è che la sua voce perché quanto ho capito comunque lei utilizza un programma per eh diciamo camuffare la voce quindi non so se questo è un uomo o una donna o una bambina o una donna grande non si sa non si sa chiaramente perché che è un utilizzo ripeto questo programma questa cosa che utilizza per modificare la voce non è manco tanto male però consigli che proprio potrei dare ripeto ed evitare di di parlare in certo in certo modo in che senso allora non questo video non è successo però raramente quando mi capitano i suoi shorts e dice la frase adoro è come dire di come la dice sia nel modo che la dice ma anche col fatto di come sia nel modo che la dice ma non trovo il termine giusto sia nel modo che lo dice praticamente è eccessivo nel senso che è come se ti scoppi a street in pain in quel senso perché è come se urlasse a un certo punto perché la dice tipo faccio un esempio adoro sinceramente allora è una cosa secondo me che si che ripeto poi non trovo le parole giuste ci giuro non trovo le parole giuste però ripeto se è proprio col biondi la tutta va bene la frase può dirla ma non in quel modo perché ripeto la considero una cosa abbastanza stupida stupida ma ripeto come ho detto il suo canale non è male è strutturato bene fa video fatti abbastanza bene e diciamo che da qualche modo comunque i suoi video sono dicendo di volte diciamo a quella fascia di età più che altro merita iscritti che ha non dico che non li merita ma merita e e ripeto nessuno comunque dovrebbe comunque andare nel suo canale e andarlo a prendere perché ripeto per quella questione di lì che molti pensano potrebbe essere come la quinta del mondo quella l'altra tizia quella della siate ecco ora mi è venuta in mente l'inizio di video mio è miaoba ecco alcuni la considero come miaoba questa che non c'entra una mazza ripeto non vedo motivo per cui debba essere offesa questa diciamo parliamo di youtuber perché ripeto non fa nulla di male e e fa video di robux un po' come altri youtuber più o meno cioè per farvi un esempio ecco io sono clore più o meno fa qualcosa di simile a lei per esempio c'è anche nei show magari io sono clore diciamo li fa un po' meglio rivolti a un pubblico più adulto lei diciamo che queste di qua invece questa giorgia li fa un pubblico più piccolo diciamo e niente io vi saluto ripeto non penso di fare altri reaction di questi canali che vengono offresti ripeto noi ci vediamo chiaramente alla prossima ciao ciao